Piccolo come altezza ma oggi una partita strepitosa è fatta con Arrigoni in mezzo al campo. Sì, Arrigoni abbiamo fatto una buona partita, abbiamo cercato di coprire tutte le linee di passaggio che i loro trequartisti creavano e abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo probabilmente il Pescara vi ha spaventato un po', è stato bravo Peruchini su Dursi, bravissimo Arrigoni sul colpo di testa di Ferrari e Mordini a fare una diagonale difensiva. Nel secondo tempo avete un po' di rimpianto perché siete stati spesso nella metà al campo del Pescara? Sì, abbiamo un po' di rimpianto perché le occasioni le abbiamo avute, il loro portiere è stato impegnato, potevamo sicuramente portare a casa questa partita però comunque è un pareggio molto importante con una squadra che è costruita per andare in Serie B quindi per noi è un buon pareggio. E con una cornice di pubblico quasi da categoria superiore? Sì, il pubblico ha creato un derby fantastico e in campo con un pubblico così ti esalti molto e infatti dobbiamo tutti ringraziarli. E vi ha detto Guidi dopo la partita? Il mister ci ha detto che dobbiamo continuare su questa strada perché non abbiamo ancora fatto niente, comunque un pareggio in casa col Pescara sia importante però dobbiamo raggiungere prima possibile questa salvezza. Grazie.